per una ventina di giorni saranno intensificati i controlli lungo i confini la decisione della questura pochi giorni dall'incontro fedriga salvini sindaco di piazza venerdì sera ringa ha spiegato il motivo della stretta sulle multe in costiera a colpa di quattro cretini posteggiati in galleria naturale quando c'è di mezzo la salute pubblica l'obbligo dei vaccini è un diritto dello stato così il sottosegretario della famiglia è disabilità zoccano tempi troppo lunghi per chiedere una commissione per questo la maggioranza ha scavalcato il presidente del consiglio comunale protesta l'opposizione il temporale di ieri è mandato in blackout dal centrale del numero unico di palmanova la regione rinegozia la partecipazione alla sanità nazionale l'assessore polli annuncia in arrivo altri 250 posteggi per scooter ma quelli di via san spiridione sono provvisori al boveto ci sarà spazio anche per i camper ok il progetto di di piazza sulla ciclabile in porto vecchio della fiab di trieste che chiede un percorso dedicato e non sovrapposto a quello pedonale telespettatori telequattro buonasera benvenuti all'edizione serale del nostro telegiornale dunque sono stati intensificati controlli ai confini per contrastare l'immigrazione clandestina nei giorni scorsi il presidente della regione massimiliano fedriga ring aveva in qualche modo anticipato il provvedimento che la questura tende comunque a collegare alla stagione estiva più che farlo derivare da un incontro fra lo stesso fedriga e il ministro dell'interno salvini credo ci sono lei dice si può forse si sta andando si sta andando in questa situazione saranno ottime sorprese nei prossimi giorni quindi perché in questo momento la preoccupazione è che chiudendo la rotta del mediterraneo e si possa riaprire la rotta balcanica e lo abbiamo documentato appunto non solo la valla rosandra ma altri punti dei avete visto che stanno iniziando a passare ovviamente sono numeri fortunatamente ancora limitati ma non è detto che rimanga così non aveva anticipato la scorsa settimana ring il presidente della regione massimiliano fedriga dalla questura non vi siano dichiarazioni ufficiali che colleghino direttamente l'intensificazione di controlli straordinari nelle zone vicine ai confini per contrastare i flussi migratori irregolari ma certamente ad essi non è strano l'incontro tenutosi a roma fra lo stesso fedriga il ministro dell'interno salvini nei giorni scorsi l'azione che vede coinvolta una trentina di uomini cui si aggiungeranno rinforzi in arrivo dalla mobile di padova e dai reparti prevenzione crimine è stata comunque decisa durante un summit cui ha preso parte il vice capo della polizia nicolo d'angelo i controlli straordinari attivati a trieste dopo parecchi anni proseguiranno per una ventina di giorni attraverso posti di blocco e il controllo di automezzi e persone che possono essere ritenute sospette in parecchie aree di confine i controlli riguarderanno anche i parchi cittadini filtra dalla questura che tiene a precisare come ogni estate con l'intensificarsi dei flussi migratori si intensifichino anche i controlli resta in ogni caso la coincidenza dei tempi di avvio di tali controlli con l'intensificarsi dei rapporti fra l'altro già strettissimi fra fedriga e salvini distaccare di qualche distaccare chiedo scusa qualche decina di uomini in friuli venezia giulia per una ventina di giorni è un'operazione spot già vista in altre circostanze e che non significa cambiamento che possa incidere in modo strutturale sulla vigilanza di ingressi non consentiti lo ha affermato il segretario regionale del partito democratico salvatore salvatore spitaleri è un banale segnale di fumo di matrice salvinista destinato a svanire molto presto lasciando il friuli venezia giulia lo speriamo solo a fronteggiare i rientri dei dublinanti che ci saranno imposti dall'austria governata dall'alleato kurz avete già io ho già visto pronto in in regia il servizio successivo che è un'intervista al responsabile del sindacato autonomo di polizia tamaro che chiede appunto che il servizio di intensificazione ai valichi non sia uno spot con controlli estivi generici ma un servizio mirato proprio contro l'immigrazione clandestina ma sentiamo l'intervista realizzata questa mattina da bernardo gulotta noi innanzitutto speriamo che non sia uno spot pubblicitario e quindi i tanto agognati rinforzi che chiediamo da tempo come sindacato autonomo di polizia siano tali e anche perché riteniamo che troppe volte è accaduto che il personale territoriale sia stato distolto dal controllo del territorio mi viene in mente la polizia stradale proprio che in questo periodo è così fortemente impegnata per i flussi di vacanzieri in altre attività e quindi io credo che questi rinforzi possono essere veramente un qualcosa di positivo. Auspichiamo che il periodo permanga tale fino a quando appunto ci sia la necessità quindi non si non si fermi a questi a questi giorni qui. Inoltre speriamo anche vengano forniti anche ulteriori mezzi e anche locali idoni nel caso in cui venissero intracciati in un numero piuttosto elevato di appunto immigrati clandestini per poter appunto disbrigare quelle pratiche necessarie appunto per la loro identificazione. Questo pomeriggio si è tenuto un incontro fra il sindaco di piazza e alcuni rappresentanti sindacali dei precari dell'educazione in comune. È stato un incontro a porte chiuse dove ha partecipato per quanto riguarda il comune il solo sindaco di piazza. Di piazza ha assicurato l'interessamento suo personale al problema ed ha annunciato l'intenzione del comune di coinvolgere la regione soprattutto per l'aspetto economico della soluzione prospettata già un paio di giorni fa dagli assessori Brandi e Lo Bianco. La prossima settimana, martedì della prossima settimana, un ulteriore incontro dove verranno precisate ulteriormente le posizioni. Il sindaco di piazza si è espresso venerdì scorso a Ring anche sulla questione della stretta da parte dei comuni di Trieste e di Duino Aurisina riguardo alla linea dura sui posteggiatori che si fermano lungo la costiera. Questa intervista del sindaco di piazza è un estratto da Ring ma intanto vedo pronto un altro servizio, deve esserci qualche problema in regia. Passiamo al servizio che vedo già pronto, abbiate pazienza, delle volte succedono queste cose. Abbiamo ripristinato il servizio con di piazza, può andare in onda. Allora, via le mie ramare. Allora volevo dirvi, per quattro cretini che parcheggiavano sotto la galleria naturale, ma è impensabile, è passato a chi di dovere, si è arrabbiato, ha mandato la lettera in prefettura, la prefettura ci ha chiamato, è partito prima il comune di Muggia, di Duino Aurisina con le multe, io ho fatto fare prima quegli avvisi, hai visto, ho fatto fare un avviso cari cittadini, non sistemate qua in dibieto di sosta perché dovremmo multarvi e dopo naturalmente è partita e sono partite le contravenzioni. Ho parlato col mio comandante, il nuovo Walter Minocchi che mi ha detto che sono andato a parlare col procuratore, con la procura della Repubblica, non si può fare altrimenti. Per pochi cretini paghiamo tutti. Questa è la realtà, mi ha telefonato Stico che è disperato. Abbiamo sentito tutti, mi sono molto preoccupati. Lo so, adesso abbiamo Paolo Polidori che sta portando avanti un servizio di bus, naturalmente abbiamo quei 65 posti che però non è quella la soluzione della sissa, finalmente l'abbiamo attivato, vi ricordate che avevo parlato un anno fa, l'abbiamo attivato, adesso è troppo caro. E ho capito, allora non mi ha mai ben niente qua però. Allora se ha… Tre ore e sette euro signor. Non mi scusi, quello era nato per i turisti, non sicuramente per i triestini che parcheggiavano come sappiamo. Adesso vedremo di rivedere con esatto la situazione o con chi gestisce, chi di dovere. Però ripeto, è una cosa privata quello, non è che decidi così. Il problema era, torno a ripetere, per quattro cretini in comune sotto la galleria naturale paghiamo tutti, peccato. E comunque è probabile che si arrivi ad un accordo con la gestione del parcheggio ex sissa che dovrebbe favorire i residenti. Il centro-destra in Consiglio Comunale difende la volontà di sorpassare il Presidente del Consiglio, Gabrielli, nella convocazione delle commissioni. In questo modo, secondo Roberto Cason della lista di piazza, si velocizzerebbe l'iter burocratico. Per quanto riguarda l'accordo che oggi è previsto dal regolamento comunale, in cui il Presidente della commissione deve chiedere l'accordo al Presidente del Consiglio Comunale per convocare una commissione, io lo considero, come tutti gli altri presidenti, ma abbiamo già parlato anche con tutti gli altri esponenti di maggioranza e capigruppo, una lungaggine burocratica, perché dobbiamo attendere il momento in cui chiediamo la convocazione dei tempi che a volte potrebbero portarci anche a sforare alcune scadenze obbligatorie. Sempre all'ultimo momento dobbiamo convocare, devo convocare le commissioni, non posso attendere che qualcuno mi dia l'ok dove un Presidente normalmente dovrebbe agire in piena autonomia. Non sono state tenute commissioni inutili, anzi ogni commissione dà la possibilità di sentire magari un assessore, due assessori, ma anche persone terze l'erogazione, l'eggettone di presenza con una media circa di 1200-1300 Euro a seduta, se consideriamo che in ogni commissione ci sono 15 commissari e il prezzo, il valore del gettone si aggira attorno ai 100 Euro. L'ordi. L'ordi, ecco. Bisogna dire anche questo perché tanti pensano che in Comune ricevono un'indenità, un gettone di presenza di 100 Euro a seduta anche per una sola ora, però nessuno poi comprende quanto lavoro c'è dietro le quinte. Sfiducia che ha il sapore della ripicca, così il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Paolo Menis, riguardo appunto a quello che ha appena affermato Cason. Vediamo il servizio. Un atto di sfiducia è perché no anche un modo per fare proprio un gettone in più. Il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Comune, Paolo Menis, commenta in questi termini la volontà da parte del centrodestra di scavalcare il Presidente del Consiglio Comunale Gabrielli riguardo la convocazione delle commissioni consigliari. Per Menis si tratterebbe di una sorta di rivincita contro il Presidente dopo che lo stesso qualche tempo fa si era opposto alla Costituzione di alcune commissioni. È sicuramente un atto politico di sfiducia nei confronti del Presidente del Consiglio Comunale che è stato votato con i voti della maggioranza di centrodestra. Ed è una sfiducia dovuta al fatto che il Presidente giustamente, secondo il nostro punto di vista, si era opposto all'istituzione di commissioni inutili che non portano a risultati e che dall'altro punto di vista portano dei costi a carico del Comune e quindi dei cittadini. Adesso discuteremo questa delibera durante il prossimo Consiglio Comunale. Vedremo come superarla. C'è già in atto da parte della Regione Friuli Venezia Giulia la volontà di istituire una indennità fissa per il Consigliere Comunale. Questo supererebbe questa ricerca di istituire delle commissioni, di organizzare delle commissioni per aumentare i gettoni a carico dei consiglieri comunali. Credo che oggi la cultura dell'obbligo andrebbe comunque tolta non solo per i vaccini, però per togliere l'obbligo occorre che le persone abbiano la piena vertenza, come si suol dire, il deliberato consenso e quindi siano consapevoli che il prodotto, che sia un farmaco, che sia pane e salame o qualsiasi altro prodotto debba essere naturalmente trattato con scientificità. Io sono vaccinato, ho vaccinato i miei figli e credo che debba esserci consapevolezza sull'uso che si fa, anche del farmaco contro il mal di testa. Se c'è questa consapevolezza non servono gli obblighi, ma se non c'è questa consapevolezza lo Stato ha il diritto e il dovere di salvaguardare la vita dei propri cittadini, anche rispetto a certi altri che magari dicano, io sono libero di scegliere di non vaccinarmi fino a un certo punto, perché poi a un certo punto se io poi mi ammalo di una malattia infettiva e devo infettare anche gli altri, francamente. Una soluzione che chiede al Governo di incrementare con iniziative normative ad hoc e comunque a partire dal prossimo disegno di legge di bilancio le risorse necessarie per la riapertura dei termini per la presentazione delle domande volte al riconoscimento dei benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti a mianto. Sarà il primo atto a essere preso in carico e discusso dalla Commissione Lavoro della Camera e questa richiesta è stata presentata dalla deputata del PD Deborah Seracchiani. I benefici in questione, spiega una nota della Seracchiani, consentirebbero a chi ha avuto un decennio di esposizione all'amianto di andare in pensione con cinque anni di anticipo. Sono stati già formati gli oltre 20 nuovi assunti che il gruppo Arvedi impiegherà nell'area a freddo della feriera. Intanto si sono concluse le operazioni di manutenzione straordinaria dell'Alto Forno numero 3. Nei giorni scorso il gruppo Arvedi ha portato a termine le operazioni di manutenzione straordinaria dell'Alto Forno numero 3 della ferriere e ha ripreso come previsto la produzione di ghisa dopo l'annunciata fermata di circa 30 giorni. Ogni fase di questo processo di fermata e riavvio è stata comunicata ai tecnici dell'ARPA. Tale fermata è stata utile anche per apportare significative migliorie alla strumentazione di monitoraggio e automazione del processo produttivo oltre che di controllo dello stato tecnico. È stato inoltre revampato il sistema di gestione dell'alimentazione dell'aria comburente. Oltre a ciò sono stati sottoposti a revisione gli impianti di aspirazione e depolverazione del processo di ghisa e agglomerazione. Ancora nell'area a caldo è avviato l'ITER per la realizzazione di ulteriori interventi di mitigazione acustica, secondo quanto previsto dalle prescrizioni ricevute dai preposti organi di controllo. In merito all'area a freddo, Ferriera ha avviato la formazione del personale da poco assunto che acquisterà le competenze necessarie alla conduzione dell'impianto dopo il consueto periodo di addestramento svoltosi presso lo stabilimento di Cremona su un impianto analogo già in produzione. Ad oggi nel nuovo reparto propedeutico alla rilaminazione a freddo sono state assunte nelle ultime settimane oltre 20 persone ed è previsto l'inserimento di ulteriori 8 operativi entro inizio agosto. Sono previste poi ulteriori risorse tecniche dedicate al controllo di processo in cocheria e alla garanzia di qualità in laminazione. Possiamo fermarci per la pubblicità, poi torniamo con altri servizi. Entriamo in studio con la cronaca. Una ragazza è stata mollestata sabato scorso in via Ciamician. Un fatto di cronaca non isolato che mette in luce la necessità di maggiori presidi lungo la zona. Erano le 18.40 di sabato pomeriggio quando una giovane donna che stava percorrendo un tratto in salita di via Ciamician giunta in cima alla scalinata che interseca con viale terza armata si è sentita toccare con forza e palpeggiare le natiche e il seno. L'uomo di origine asiatica, secondo il racconto reso dalla vittima, giovane, alto, circa 1,75 m, capelli neri e lisci di media lunghezza è fuggito subito dopo averla apostrofata in una lingua che la ragazza non ha compreso. Subite le molestie, la giovane si è messa a piangere ed è stata soccorsa da due donne che l'hanno poi accompagnata a casa. La polizia ha già acquisito le immagini delle telecamere installate su alcuni palazzi della zona. Non è la prima volta che quell'area è teatro di simili episodi, l'ultimo dei quali è accaduto in una perpendicolare di via Ciamician, la via Giustinelli, mentre la piccola area verde che si trova all'inizio di via Ciamician non più tardi di qualche sera fa era stata teatro degli amplesti di una coppia favoriti da una terza persona con funzioni da palo. Il consigliere comunale Bruno Marini, Forza Italia, che molto si è speso per la vivibilità di quella zona, da un lato sottolinea come la via si stia ormai trasformando in una seconda via Torino, nonché la necessità di estendere l'illuminazione lungo tutta la strada. Questo pomeriggio sul raccordo autostradale con l'A4 si sono registrati rallentamenti a causa di un incidente al chilometro 19 nel comune di Trieste, appunto lungo la carreggiata in direzione Venezia. C'è stato anche un caso di un camper che percorreva un tratto dell'A4 contro mano. La prossima settimana il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga affronterà con il Governo il tema della compartecipazione del Friuli Venezia Giulia al risanamento del sistema sanitario regionale, lo ha annunciato l'assessore alle finanze Barbara Zilli. Un'ora di blackout a Palmanova ieri pomeriggio in seguito ad un temporale, emergenza sanitaria isolata con forti rischi per la popolazione, evitati grazie allo spirito di iniziativa del personale come denuncia l'Associazione Costituzione 32. Il livello di sicurezza che è chiaramente insufficiente perché non è ammissibile che il gruppo elettrogeno non parta in caso di carenza di elettricità e soprattutto che non ci siano dei gruppi di continuità per quanto riguarda, o forse non hanno funzionato anche quelli, per quanto riguarda i computer. Perché nel momento stesso in cui l'energia è mancata, gli operatori di centrale non sapevano più dove erano le ambulanze di tutta la Regione, ma non sapevano più neanche quanti viaggi, quante missioni erano ancora in attesa. Il dottor Walter Zalucar, presidente dell'Associazione Costituzione 32, si riferisce al blackout che ieri per più di un'ora ha interessato nel pomeriggio il NUE e il SORES di Palmanova, in pratica l'emergenza sanitaria regionale. Essendo Palmanova isolata, le chiamate, come da prassi, venivano inviate a Brescia. Le stesse chiamate venivano poi rinviate alla centrale 118, che però era completamente al buio e aveva sia i telefoni sia i radiotelefoni non funzionanti, in quanto il gruppo di sicurezza, cioè il gruppo elettrogeno, non era partito. Zalucar sottolinea come si sia evitato il peggio grazie all'iniziativa del personale in servizio. Hanno usato subito i quattro cellulari di servizio e con questi cellulari hanno cominciato a prendere le chiamate da Brescia, ma poi con gli stessi cellulari dovevano anche muovere le ambulanze, per cui a questo punto hanno pensato di utilizzare anche i propri. A Trieste la situazione è stata anche peggiore. Per Trieste i problemi sono stati maggiori, in quanto non si trovavano i numeri di telefono di Trieste, per cui c'è stato contracellulare e cellulare delle comunicazioni e il tutto ovviamente ha ritardato i servizi e creato disagi non indifferenti. La conclusione, sottolinea Zalucar, è una sola. Improvvisamente tutto il soccorso sanitario dell'intera regione si è bloccato. La cosa è gravissima perché espone le persone, espongono i cittadini a danni che possono essere irrimediabili. Parcheggi scooter, ci sono novità da parte del Comune, mentre procedono i lavori per il megaparcheggio per 500 fra automobili e camper a Barco L'Albovetto. Da qualche tempo il Comune ha messo mano ai parcheggi per gli scooter, soprattutto dopo il taglio di quelli in via Santa Caterina da Siena, che non verranno recuperati dopo la fine dei lavori per il nuovo Hotel Hilton. Quelli che sono stati tolti non saranno riposizionati perché lì servirà uno spazio per i portatori di handicap, per carico e scarico, eccetera. Però abbiamo costituito, voglio ricordare, gli stalli in via Carducci, in via Embriani e in altri luoghi della città. Voglio ricordare che questa giunta dall'insediamento ha creato 500 nuovi stalli per scooter. Ma in progetto, appena saremo pronti, anche con le planimetrie, eccetera, sarà fatta adeguata comunicazione, la creazione di uno spazio per circa altri 250 stalli proprio nei luoghi limitrofi a quelli che sono i luoghi di lavoro o comunque a servizio della comunità. Dopo quelli nuovi in via Timeus, da qualche tempo ne sono stati approntati altri in via San Spiridione, che però, fa sapere l'assessore Polli, saranno provvisori. Nel momento in cui la collega Lodi farà partire i lavori per la ristrutturazione di Piazza Sant'Antonio, il marciapiede, lato chiesa, verrà allargato per lo spazio concomitante a quello occupato adesso dagli scooter. Quindi dando anche una valorizzazione a quello che è un bene culturale della nostra città e anche un segno della multireligiosità appunto di Trieste. Lo spazio per gli stalli è quello regolamentare. Molti fanno notare come, soprattutto gli scooter di nuova generazione, siano in realtà più lunghi e più larghi. In quelli nuovi che faremo, cercheremo di tararli anche per quelli che sono i turisti, che adesso ho visto girare per città anche molti turisti che arrivano con le moto e quindi cercheremo di rendere, diciamo, flessibili le misure per gli stalli. Ovviamente quelli che facciamo, come li abbiamo fatti questi in via San Spiridione, sono la misura standard prevista dal codice della strada e cerchiamo di ottimizzare gli spazi. Certamente nel tempo il codice della strada è rimasto fermo, gli scooter si sono modificati, tutti hanno il bauletto e quindi cercheremo di commisurare anche questa esigenza. Intanto sul fronte dei posteggi per autoveicoli procedono i lavori a Barcola per i 500 posti al Boveto. Voglio ricordare, oltre alle vetture, ci sarà lo spazio per i camper con il servizio per quello che riguarda le ricariche elettriche, lo scarico e tutto quello che può servire da quel punto di vista. Quindi da lì partirà anche l'installazione di un bike sharing, quindi inizia tutto un discorso di mobilità sostenibile in quello che è il progetto europeo PAES che è il Comune di Trieste, a cui il Comune di Trieste è aderito, ma per dare un nuovo modo di muoversi non solo ai triestini ma anche a chi viene a visitare la città. Una notizia di sport, Vela, Mondiale Laser Under 21, la muggesana Carolina Albano è vice campionessa del mondo. Chiudiamo il telegiornale con un servizio dedicato alla pista ciclabile che possa permettere ai ciclisti di viaggiare veloci e in sicurezza. È la proposta di FIAB Trieste per il progetto appunto della pista ciclabile in Portovecchio. Integrare un percorso pedonale ciclabile assieme potrebbe comportare la scarsa volontà dei ciclisti di utilizzarlo preferendo restare lungo Viale Miramare. Vediamo il servizio di Bernardo Gulotta che chiude questa edizione del telegiornale. Buona serata a tutti. Il rischio è questo. Quando una pista ciclabile è fatta bene i ciclisti ci vanno, anche quelli sportivi, quelli che vogliono andare veloce. Ed è questo, credo che noi in Portovecchio dobbiamo puntare a questo, a fare una pista ciclabile di tale qualità che veramente tutti i ciclisti possono pedalare comodamente, e velocemente in sicurezza. Ed è per questo che abbiamo raccolto 1.500 firme che a breve consegneremo al sindaco di piazza. Una raccolta firme per vedere realizzata una pista ciclabile veloce e sicura lungo il confine tra Portovecchio e la stazione e lo stesso Portovecchio e Viale Miramare. Questa è la complementare richiesta della FIAB Trieste che si affianca a quanto già in mente dall'amministrazione comunale. Servirebbe a detta dei ciclisti una pista dedicata e non integrata al percorso pedonale, proprio per questioni di sicurezza ma anche di attrattività da parte degli stessi utilizzatori del velocipede. Il sindaco di piazza ha detto che ha intenzione di realizzare una pista ciclabile nella grande promenada alberata che attraverserà il Portovecchio e noi non siamo assolutamente contrari a questa proposta, però chiaramente realizzare una pista ciclabile vuol dire andare a intersecare aree pedonali, vuol dire anche, speriamo che in una zona di questo tipo ci saranno attività, concerti, vita notturna, quindi non sarà una pista ciclabile veloce e sicura, lì i padroni saranno i pedoni e noi ciclisti dovremo un po' adeguarci. Per questo come FIAB abbiamo fatto una proposta complementare, non alternativa, cioè di realizzare anche una pista ciclabile veloce e sicura lungo il confine tra Portovecchio e Stazione e Portovecchio e Viale Miramare. Questo ha indubbiamente almeno tre vantaggi. Uno è la pista ciclabile così è decisamente più breve e più sicura perché non ci sono intersezioni, quindi questo lo rende anche molto attraente e sarebbe uno strumento utile sia per chi vuole andare da barco e lavorare a Trieste, sia per i tanti che vogliono andare a pedalare in costiera e che sceglieranno di utilizzare una pista ciclabile solo se lo potranno fare comodamente e velocemente. Grazie per la visione!